Settimana scorsa ci siamo presentati anche noi su questo sito e ci siamo presentati come alla Chiesa di Gesù Cristo dell'Universo qui sulla Terra. Abbiamo cercato di dire chi siamo, di portare la nostra testimonianza e vi abbiamo invitato a telefonare, a scrivere, a vivere un confronto, a dare vita a un dialogo e cercheremo, andando avanti, di rispondere alle domande che avete fatto. Abbiamo già detto che non siamo contro nessuno, che non siamo in alternativa a nessuno, però questa settimana penso avrete visto e letto il messaggio di Dio Padre e in quel messaggio, in quel giorno, due giovani si sono consacrate nella fondazione. Inoltre sabato Padre Tomislav ha parlato ancora del sacerdozio nuovo e ne ha parlato con una certa forza. Allora penso sia giusto ancora cercare di portare, allargare un po' la nostra testimonianza. La fondazione Fortezza dell'Immacolata, dove si sono consacrate queste giovani, è nata nel 2005, è stata fondata sull'ispirazione di alcune persone che seguendo Padre Tomislav, seguendo Međugorje, avendo incontrato Dio e cambiato la loro vita attraverso le operazioni di Međugorje, hanno deciso di donare dei pegni e di formare questa fondazione per divulgare e promuovere il pensiero di Maria Santissima espresso a Međugorje. Qual pensiero che poi avrete potuto sentire e leggere nei Suoi messaggi su questo sito, il vero motivo delle Suoi apparizioni e del Suo rimanere qui in mezzo a noi, della Sua presenza sulla Terra. Noi sapete che ci definiamo Mariani e Francescani. Per noi Maria è un passaggio obbligato per arrivare a Cristo, per lasciarci portare da Cristo nello Spirito Santo a Dio Padre. Non è un soprammobile. E anche se tutta la rivelazione è vero che è stata detta, però è altrettanto vero che non è arrivato al compimento. Finché Gesù Cristo non avrà il Suo ritorno glorioso, non c'è stato il compimento. E Maria è sulla Terra, come del resto adesso anche gli strumenti straordinari e anche quelli ordinari, proprio per portare tutto a compimento. Non è un soprammobile. Anche se si dice, secondo me, purtroppo, e secondo me è gravissimo anche dirlo, si può fare a meno di Maria. Per me è già quella frase, se si può dire, fa arrabbiare il Signore. Non credo che il Signore si arrabbi, ma lo ferisce e lo rattrista molto. È rifiutare un dono di Dio, il dono più grande. Dopo l'Eucarestia è il dono più grande. Dire posso farne a meno, pensate che rifiuto. Allora, dicevo dalla fondazione, proprio fortezza dell'Immacolata, a onore di Maria, nata per promuovere questo messaggio. e chi l'ha fatto ha offerto la vita per questo. E chi l'ha fatto, attorno a Lui si sono radunate tante persone che offrono la vita per questo e che riconoscono questo. Abbiamo riconosciuto che l'essenzialità del messaggio di Međugorje, di Maria Santissima, è portato ed espresso molto bene, incarnato molto bene, da padre Tomis Ravlasic, in tutto il suo tempo che è stato a Međugorje e che è stato poi vicino a Međugorje. Lui ha offerto la vita già nell'84 perché le apparizioni di Međugorje arrivassero al compimento che Maria voleva, che Dio voleva. Dopo che tante persone si sono riunite attorno alla fondazione, si è vista una chiara azione di Dio che ha investito su quello strumento. Ha investito tanto. Ha investito lasciando anche noi stupiti. Non pensavamo nemmeno che avesse un'importanza così grande. Nessuno di noi se lo aspettava. Siamo partiti con un bel desiderio, ma senza. Questa idea che poi Dio ha aperto, espresso e divulgato col passare del tempo. E il significato profondo al cui viene usato quello strumento che abbiamo capito in seguito è proprio la ricapitolazione in Cristo di tutto l'universo che è il messaggio centrale che stiamo cercando di portare avanti. in seguito è nata anche la casa editrice Luci dell'Esodo anche quella per desiderio di stampare il libro oltre la grande barriera in quanto quando l'abbiamo fatto ma continuiamo a pensarlo che non sia un semplice libro ma sia un dono di Dio anche quello. E allora come ogni dono di Dio renderlo alla disponibilità di più anime possibili non tenerlo per noi renderlo a disposizione dell'umanità. l'abbiamo fatto perché per tutti noi è un aiuto per comprendere meglio il Vangelo un aiuto per camminare nel Vangelo un aiuto per comprendere le scritture un aiuto per entrare sempre di più nel pensiero di Dio per conoscere Dio. San Giovanni nel suo Vangelo dice la vita eterna è conoscere il Padre a nostro parere oltre la grande barriera è di grande aiuto per questo. Noi conoscevamo Stefania Caterina e il Padre Tomis già da tanto tempo ma nessuno di noi sapeva dell'esistenza del nucleo centrale e anche tutti noi siamo venuti a saperlo il 10 settembre del 2010 quando è stato rivelato quando San Michele l'ha rivelato. Sappiamo che è stato formato fondato nel 2004 ma per quei sei anni anche se abbiamo vissuto vicino a Padre Tomis e la Vestefania non sapevamo fossero membri di questo strumento straordinario. ho detto che il libro oltre la grande barriera e tutti gli scritti che poi sono venuti in seguito tutte le riflessioni tutto l'accompagnamento che Padre Tomis l'ha fatto nel suo sacerdozio ha fatto camminare a tutti noi in una vera trasformazione cristiana ci ha aiutato a incontrare Cristo ci ha fatto continuare quel percorso di conversione che la maggior parte di noi ha incontrato o quantomeno vissuto pienamente a Meggiugorie ma che poi è andato avanti e continua ad andare avanti non è finito è un percorso che ci porta nella creazione nuova le vicende che sono arrivate poi in seguito delle persecuzioni a Padre Tomis la via Stefania Caterina devo dire e testimoniare che ci hanno unito e rafforzato e ci hanno portato sempre più nella comprensione vera e profonda dell'amore di Dio non ci hanno disperso anzi hanno avuto l'effetto contrario ci hanno dato tanta gioia tanta forza tanta grazia e abbiamo sentito quell'amore di Dio profondo e come proprio il suo programma di ricapitolare tutto in Cristo non solo non si fermava ma subiva un'accelerata attraverso ogni vicenda che poteva sembrare un blocco noi diciamo perché lo crediamo ma lo possiamo anche testimoniare che Maria ci ha generati Maria Santissima ci ha generati ci ha generati e ci ha portati a Gesù Cristo e lei Maria Santissima con San Giuseppe sono per noi come abbiamo sempre detto un padre e una madre ma non in senso romantico un padre e una madre che ci accompagnano nella nostra percorso nella nostra trasformazione non una mammina e un papino che ci aiutano che ci proteggano qualun di più ci accompagnano nella trasformazione interiore possiamo dire abbiamo detto di essere francescani che San Francesco e Santa Chiara sono sempre con noi abbiamo un'unione particolare con loro un amore particolare noi verso loro e loro verso di noi ci accompagnano gli angeli gli arcangeli ci proteggono i fratelli fedeli tutti i santi e il purgatorio prega per noi e da questo percorso proprio se si leggono i messaggi dall'inizio alla fine si è arrivati alla chiesa di Gesù Cristo dell'universo alla sua rivelazione alla sua presentazione e al dire adesso che qui sulla terra sta operando ho già detto che siamo parte dalla chiesa di Gesù Cristo dell'universo viviamo tutti i valori cristiani viviamo appieno il catechismo viviamo tutto l'insegnamento di Gesù Cristo devo dire cerchiamo di viverlo non siamo perfetti ma quella è la nostra strada non ci schieriamo però né coi conservatori né coi progressisti della confessione cattolica non stiamo né da una parte né dall'altra cerchiamo di stare con Cristo con Gesù Cristo lasciamo a Dio di far emergere la sua chiesa l'unica chiesa che c'è da sempre e che ci sarà per sempre quella che lui ha fondato e contro le quali le porte degli inferi non prevarranno quella di Cristo siamo consapevoli e cerchiamo di farlo che a noi spetta solo di vivere da figli di Dio spetta solo di lasciarci trasformare nella vita e di diventare uomini del Vangelo spetta solo di appartenere a Cristo al suo spirito perché lui possa condurci al Padre nello Spirito Santo sappiamo che Dio ha figli ovunque in qualsiasi religione sappiamo che ci sono figli di Dio perseguitati soffocati e anche figli di Dio che non sanno di essere figli di Dio come diciamo noi che hanno detto anche sì al concepimento ma che si sono poi incarnati nella loro vita anche in altre confessioni religiose sappiamo che Dio è presente in tutti e opera attraverso di tutti e siamo come ho detto disponibili a un confronto con tutti però la nostra testimonianza è che solo in Gesù Cristo solo nella sua redenzione c'è la salvezza e solo accogliendo in Lui si risveglia in ogni uomo la sua identità primaria essere figli di Dio creati a immagine e somiglianza di Dio quindi il nostro modo di vivere è comunismo aperto a tutti in un confronto vero con tutti accogliendo il bene di tutti il buono di tutti ma portando il nostro non svendendo Cristo per accogliere gli altri i nostri sacerdoti ministri hanno come primo scopo il primo scopo della loro vita è offrirsi insieme a Gesù Cristo per tutto il popolo è offrirsi secondo le intenzioni di Maria Santissima è il primo motivo per cui esistono offrire la loro vita il secondo scopo è cercare di fare di tutto e in tutti i modi per risvegliare nel popolo il sacerdozio regale il sacerdozio comune di ogni uomo e ogni donna e il terzo è il terzo se si può dire quello che poi è cosa di ogni giorno accompagnare indicare sorreggere ogni uomo che ci ha affidato e indicare a loro Gesù Cristo unica via verità e vita indicarglielo però concretamente in tutte le situazioni della vita che il nostro popolo vive i nostri sacerdoti vivono nei santuari dove anche altre persone consacrate a Dio attraverso la fondazione Fortezza dell'Immacolata vivono offerti per questo per accompagnare poi anche chi vive una vita di tutti i giorni normale di lavoro di matrimonio quello che è i nostri sacerdoti ministri hanno questo scopo che ho detto non sono sacerdoti di un sistema non promuovono nessun sistema non promuovono nemmeno la fondazione Fortezza dell'Immacolata non si offrono per nessun sistema non hanno lo scopo di radunare anime di sorreggere la fondazione di aumentarne il numero assolutamente no ma hanno lo scopo di promuovere la loro la vita di Dio la vita di Dio che sta in ogni uomo hanno lo scopo di offrendo la vita di risvegliare la vita di Dio che sta in ogni uomo anche in quelli che possono sembrare più lontani perché esistiamo ci chiamiamo popolo nuovo chiesa nuova ma di nuovo non abbiamo nulla come abbiamo detto tante volte è nuovo perché in Dio tutto è nuovo è nuovo perché come ho detto prima anche se purtroppo spesso si senta dire la rivelazione è finita è finita con il Vangelo è finita con gli atti degli apostoli è finita con le lettere di San Paolo e degli altri apostoli non dimentichiamo però che c'è anche l'Apocalisse che completa la rivelazione ma la rivelazione non è compiuta il nostro esistere è per permettere a Dio perché lo riconosciamo di portare a compimento e noi diamo la nostra vita per questo anche oggi vi abbraccio e benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amén Amén